ok allora siamo qui in apiari cos'è che facciamo adesso diamo un'occhiata a vedere prima di tutto come è andato il raccolto se stanno ancora raccogliendo del miele oppure se è il momento di raccogliere del tutto mettiamo un po di fumo così che almeno stiano tranquille riusciamo a lavorare senza disturbarle stavo dicendo prima ma si stava avvicinando che il volo delle api sembra abbastanza teso e dritto questo dovrebbe essere sinonimo che stanno ancora raccogliendo fare una prova molto rapida ed qui c'è il miele un telaino esterno un favo esterno per fare una prova molto rapida vediamo se stanno ancora vedete questo miele raccolto al massimo ieri sera vedete come è liquido non è denso come il solito miele questo è molto liquido è miele fresco fresco questo ma allora sto dicendo è un è la prima volta che le porto in questa zona secondo me vedendo la flora circostante vedendo le valli che vanno a salire potrebbe essere un buonissimo millefiori questo non c'è una forte concentrazione di castagno non c'è una forte concentrazione di tiglio più che altro vedo un sacco di rovi poco castagno e c'è una grandissima bella valle a salire facciamo proprio così guarda anche per levarci ogni dubbio si può fare anche così il miele che è caduto proprio si sente un po lamaro e castagno ma non esagerato come il castagno quindi questo qui secondo me sarà un bel sarà davvero un gran buon millefiori ecco dopo questo qui vedete il raccolto guardando la guardando diciamo l'annata non è proprio dei migliori si nota un forte distacco non c'è un tutte le casse su due melari piuttosto che su uno è tutto un sali e scendi continuo qui come si può vedere c'è da dire che qualcosa ne ho raccolto però questo è quello sopra questo è quello sotto vedete il miele già ho bel colato cosa vuol dire ho bel colato chiuso come dicevamo prima vedete stoccato per loro e allora natura